salve a tutti oggi voglio festeggiare assieme a voi il compleanno di una regista una regista ci suona strano sentir dire una regista vero e siamo nel 2021 ragazzi allora dovremmo farci un paio di domande se ancora oggi ci sembra un'eccezione che una donna possa arrivare a fare la regista ancora oggi purtroppo la professione di regista ma anche l'appellativo di autore cinematografico rimangono astrettissimo appannaggio maschile pensate a quanto ci sembra strano sentir dire autrice riferito ad una regista e ci sembra sempre di dover dire regista donna perché altrimenti pensiamo immediatamente ad un maschio ecco è un problema molto grosso è un problema che prima o poi l'industria cinematografica soprattutto hollywoodiana dovrà affrontare lo sta già affrontando forse a volte in dei modi non così ortodossi ma oggi parliamo appunto di una grande autrice di una grande regista non regista donna una regista una regista che fu la prima donna a vincere l'oscar per la regia effettivamente la seconda come sappiamo sarebbe stata proprio quest'anno chloe zau con nomadland ma non solo vinse l'oscar alla regia contro il suo ex marito che anche lui appunto era candidato quell'anno con avatar james cameron appunto e lo vinse per la regia di the heart locker che secondo il sottoscritto in realtà non è nemmeno il suo film più bello anche se comunque un bel film ragazzi se ancora non l'avete capito stiamo parlando di catherine bigelo che proprio oggi compie 70 anni pensate un po' quanto vuole il tempo allora oggi per festeggiare la bigelo ho deciso di recensirvi il suo film probabilmente più noto al grande pubblico ovvero point break punto di rottura film del 1991 diretto appunto dalla bigelo e scritto da w peter relief su un soggetto suo e di rick king un film che fra l'altro proprio lo scorso luglio ha compiuto 30 anni quindi anche un modo per festeggiare il film assieme alla bigelo un film che in effetti all'epoca fu supervisionato proprio da james cameron ebbene sì che all'inizio degli anni 90 era ancora marito della bigelo e proprio per questo decise di regalare alla consorte l'opportunità di cimentarsi a piene mani con un genere tradizionalmente legato all'immaginario maschile come l'action poliziesco da notare che la bigelo già aveva potuto realizzare il precedente blu steel bersaglio mortale solo grazie all'interessamento e al coinvolgimento di oliver stone altrimenti col cavolo che quel film avrebbe visto la luce e poi appunto arrivò cameron che fu estremamente importante per la carriera della bigelo negli anni 90 perché appunto fu lui che garantì per lei come produttore esecutivo di point break e fu lui a ideare e a cineggiare strange days ebbene sì e insistete perché a dirigerlo fosse proprio la moglie e quindi diciamo che la bigelo deve tanto ad alcuni uomini in particolare al suo uomo del passato appunto a cameron se è arrivata dove è arrivata e quindi diciamo che forse è per questo che fa un cinema che trassuda di amore per il sesso maschile ci sarebbe molto su cui riflettere a proposito di questo ma point break appunto fu soprattutto il film che per primo contribui a rivelare la bigelo agli occhi del pubblico e a quelli di hollywood come una promessa del cinema d'azione appunto come una regista di grande talento proprio nel girare l'azione ed è un film dominato da due elementi focali che sono i corpi e l'acqua sono due elementi che davvero nutrono ogni scena ogni inquadratura di questo film a partire dall'inizio del film che racchiude due sequenze che vengono fuse che vengono unite in un emblematico montaggio parallelo appunto da una parte vediamo queste onde queste onde magnifiche queste onde del mare lambite da una tenue luce gialla dell'alba che sta sorgendo queste onde cavalcate impetuosamente ma anche con somma eleganza dai corpi di questi surfisti appunto le onde e i corpi questi corpi che sembrano fondersi a queste onde che entrano in simbiosi con queste onde ma non una simbiosi astratta spirituale una simbiosi fisica appunto questi corpi e quest'acqua diventano un tutt'uno e anche noi entriamo nella magia di questa unione simbiotica proprio grazie al rallentatore ragazzi oggi ormai chi è che sa utilizzare il rallenti in una maniera così poetica come fa point break che vengono a trovare oggi appunto dei rallenti come quelli delle scene di surf o di point break davvero stupendi ma intanto in parallelo vediamo anche un altro corpo oltre a quello dei surfisti che è quello di Keanu Reeves appunto uno dei corpi più fondamentali più iconici più importanti di tutto il cinema degli anni 90 un corpo che vediamo bagnato da una pioggia fittissima che lo avvolge che anch'essa diventa parte di lui appunto il corpo e l'acqua anche in questo caso e chi è Keanu Reeves all'interno del film è uno sbirro e si chiama Johnny Utah e in questo incipit appunto si sta esercitando al tiro con la pistola proprio nel mezzo di un temporale è appena arrivato a Los Angeles ed è un novellino appunto un novellino molto ambizioso in realtà e infatti il suo capo lo mette subito in riga chiamandolo come neofitrampante cosa che in effetti è e poi che cos'è che gli dice sai come catturiamo noi i criminali con i dati ebbene appunto gli anni 90 se ci pensiamo furono proprio l'epoca in cui i dati cominciarono a imporsi su tutti noi e su tutti i campi della società attraverso appunto la diffusione capillare dell'informatica anche nelle indagini di polizia e quindi i dati sono la priorità e sappiamo però che nei dati non c'è spazio per il cuore e che cos'è il cuore se non una parte del corpo appunto infatti la celeberrima sequenza della rapina in banca questa sequenza che mozza il respiro e che avremmo visto omaggiare anche da alto Giovanni e Giacomo in tre uomini e una gamba appunto questo spunto geniale delle maschere di gomma degli ex presidenti degli Stati Uniti che avevano indossate da questa banda di rapinatori che proprio per questo si va a chiamare la banda degli ex presidenti ma mi stavo dicendo la prima cosa che la Bigelow ci mostra in apertura di tutta questa sequenza della rapina è proprio il corpo di uno dei rapinatori ebbene sì, il corpo appunto assieme all'acqua è un'ossessione di questo film e il corpo è un'ossessione anche di tutto il cinema della Bigelow pensate al corpo di Osama Bin Laden in Zero Dark Thirty ma pensate al corpo disincarnato di Strange Days anche ma qual è l'obiettivo di questi rapinatori? perché ci tengono così tanto a irridere gli ex presidenti con queste maschere così cadenti e grottesche? forse perché attraverso le loro facce così cadenti e grottesche vogliono irridere il sistema che rappresentano che è il sistema capitalistico, un sistema non meno cadente e grottesco di quelle maschere e attenzione perché i dati fanno parte di quel sistema l'informatica è parte integrante del capitalismo americano e soprattutto l'informatica è l'esatto opposto del corpo perché i dati sono eterei, sono senza consistenza mentre il corpo è fatto di carne e quindi appunto da una parte c'è il corpo e quindi c'è anche il cuore che fa parte del corpo e quindi ci sono i sentimenti dall'altra invece ci sono i dati c'è l'informatica, c'è il capitalismo appunto ma c'è anche un'ipotesi che è in ballo forse questi quattro rapinatori potrebbero proprio essere dei surfisti e quindi Utah dovrà necessariamente imparare il surf in modo da potersi infiltrare tra questi presunti criminali e a insegnarli a surfare chi sarà, sarà questa ragazza mora con i capelli corti e gli occhi azzurri una ragazza davvero sexy infatti Utah si mette a osservarla da lontano in spiaggia con il suo binocolo mentre lei si sta togliendo il costume sfilandoselo appunto da sotto l'asciugamano che si avvolta la vita poi si mette questi jeans corti e salta a bordo della sua jeep l'attrice è stupenda ed è Lori Petty ma fra questi surfisti c'è anche Body appunto si chiama Body questo surfista Body che in inglese cosa vuol dire? Corpo appunto e voi direte ma è scritto con l'ac in realtà ma ragazzi c'entra poco la simbologia è chiarissima perché appunto Body è un corpo che è non meno impattante di quello di Keanu Reeves appunto perché è il corpo di Patrick Swayze appunto che è un Swayze diverso rispetto al Swayze di Dirty Dancing ma anche di Ghost vi ricordate appunto in Ghost il personaggio di Swayze aveva dei problemi col proprio corpo appunto lottava per ritrovare una corporità che aveva perduto qui invece il suo personaggio è proprio puro corpo anche nel nome appunto ed è un corpo con un cuore appunto perché tutti i corpi hanno un cuore a differenza dei corpi informatici i corpi capitalisti appunto che un cuore non ce l'hanno e dunque abbiamo un poliziesco che si apre di fronte ai nostri occhi un poliziesco con infiltrato appunto dove forse l'infiltrato instaurerà con il criminale appunto una simbiosi inattesa appunto una simbiosi fra protagonista e antagonista ma siamo sicuri che sia davvero l'antagonista probabilmente capirà che non è un antagonista capirà che è soltanto il suo specchio uno schema che certamente non è inedito ovviamente ma nel caso di questo film si giova di un registro di ironia battente di ironia molto piacevole che è un'ironia che viene dispiegata per tutto il film ed è un'ironia tipica da poliziesco anni 90 effettivamente ma soprattutto tipica di film successivi a questo in realtà perché questo film apre quasi gli anni 90 e quindi appunto è questo che il film è abilissimo a fare tenere l'ironia per gran parte della durata ma anche costruire una scia di dolore una sottotraccia di disincanto struggente che inizia a farsi strada pian piano che si fa sempre più vivida sempre più straziante e queste due anime del film appunto l'ironia e la malinconia struggente sono incarnate da un personaggio in particolare ovvero quello di Papas che è praticamente il mentore di Utah dentro la centrale di polizia appunto è un poliziotto scafato e questo personaggio è interpretato da Gary Basi questo nome vi dice niente ma certo era uno dei protagonisti di un altro famosissimo film olivodiano sul surf ovvero un mercoledì da leoni e che cosa dice Papas effettivamente? è molto cambiata Los Angeles in tutti questi anni ora si respira con la maschera e si scopa con il preservativo è molto bello questo personaggio ed è molto bello il rapporto che vediamo sviluppato appunto tra il personaggio di Papas e quello di Utah sono quasi un padre e un figlio un padre che è un reduce del Vietnam altamente disilluso dalla vita e un figlio che è una figura che fa quasi il ribelle appunto è quasi un ragazzino, un adolescente che ha ancora tanto da imparare dalla vita e guardate appunto questa scena di dialogo davanti a uno specchio rotto dove Papas mette una mano sulla spalla aiuta a questo momento disteso appunto e toccante che arriva dopo una scena d'alta tensione tutta questa sequenza di blitz nella casa dei presunti criminali una sequenza anche questa strepitosa una sequenza che parte con questo riflettore iettabile allungato da ribs per vedere appunto cosa c'è all'interno della casa poi il rumore del tagliaerba il tagliaerba che tornerà anche dopo effettivamente l'assedio con una cruenta sparatoria perché viene anche bucato un piede con un colpo di fucile e che appunto esplode con il sangue poi c'è questo inseguimento prima in auto e poi a piedi entrando anche nelle case degli altri e quindi si mantiene un certo piglio di ironia signora appunto cosa sta facendo c'è questa signora che urla andate a litigare da un'altra parte appunto via via la casa mia e quindi c'è l'ironia ma c'è proprio il cuore dell'azione perché la Bigelot tiene tutti noi attaccati allo schermo tenendoci attaccati i corpi che ci sono sullo schermo appunto la regia della Bigelot per questo film è una regia corporea e acquatica è una regia che interiorizza appunto i corpi e l'acqua è una regia corporea perché effettivamente la macchina da presa sta addosso ai corpi in scena in tutte le scene del film ma soprattutto in quelle d'azione è una macchina che si aggrappa ai corpi e si aggrappa al loro movimento nello spazio ed è una regia corporea anche perché ci fa percepire la sensazione dell'acqua sulla pelle la sensazione di pelle d'oca appunto dell'aria fredda della sera o della mattina ma è una regia acquatica anche perché appunto è formata da una cinepresa che nuota nell'aria nuota appunto nello spazio come fosse immersa nell'acqua con questi movimenti spesso di stedicam e poi anche la fotografia del film è corporea e acquatica acquatica perché è gialla e azzurra appunto sono i due colori dell'acqua per i surfisti appunto l'acqua illuminata dal sole mattutino e l'acqua che è appunto coperta dal cielo che è nuvoloso appunto o il cielo della sera e allora che cos'è il surf? il surf è rivelazione il surf ti cambia la vita il surf è uno stato mentale dove prima ti perdi e poi ti ritrovi perché tutti questi surfisti in realtà non sono altro che dei reietti appunto c'è questa ragazza di cui appunto Juta si innamora che è orfana in realtà e lo stesso Juta è un giocatore di football fallito e forse anche lui ha voglia di ricominciare una nuova vita e forse il surf potrà aiutarlo in questo potrà aiutare a scavare dentro di sé ma stiamo attenti appunto a questo mondo di uomini che appunto la Bigelow ci dipinge in modo affascinante è davvero struggente il modo in cui la regista chiappa con la sua cinepresa questo universo di maschi che non si accontentano di quello che hanno che si ostinano a cercare la felicità nell'azzardo e nell'adrenalina testosteronica buttando all'aria ciò che forse già li stava rendendo felici appunto basti vedere l'indole di Bodhi un'indole che insiste sempre di più sul rischio che preme sull'alzare la posta ogni volta e allora questa ragazza dice aiuta stai attento perché tutti questi uomini sono drogati di adrenalina e non voglio che diventi come loro perché effettivamente se si vuole il massimo bisogna anche pagare il massimo ma l'onda la devi sentire perché devi riuscire a sincronizzarti con lei o rischi di esserne travolto e quindi è un film sull'ambizione è un film soprattutto sull'amore ma non l'amore che pensate voi un amore forse impossibile un amore omosessuale ebbene sì nel personaggio di Utah e quello di Bodhi è chiara anche questa simbologia guardate appunto i due personaggi in caduta libera tira la cordicella no tirala tu e poi quest'onda ce la cavalchiamo insieme io e te fino all'ultimo e allora io non volevo arrivare a questo dice Bodhi perché io odio la violenza e lo dice con gli occhi lucidi e noi in quel momento gli crediamo appunto che bravo che è Patrick Suese che si cimenta nel ruolo forse più struggente di tutta la sua carriere è poi lo sguardo che si scambia nei due personaggi questo sguardo davvero che tocca l'anima e poi gli spari per aria quasi per arrabbiarsi con il cielo appunto questi spari che sono stati citati se ricordate anche da Edgar Wright in Hot Faze Wright appunto che abbiamo goduto al cinema in questo mese proprio con il suo nuovo Ultima Notte a Solo ma ricordatevi appunto dell'amore di Wright per il cinema d'azione in particolare proprio per Point Break e allora appunto un film sicuramente non perfetto perché appunto si rifà a uno schema di genere abbastanza riutilizzato nel corso della storia del cinema appunto il poliziesco con l'infiltrato dove l'infiltrato sviluppa con il criminale un rapporto inaspettato e poi ci sono anche delle forzature forse dei momenti un po' prevedibili appunto come quando Papas manda aiuta a comprare i sandwich e proprio in quel momento avviene la rapina e tante altre cose ma sono molto piccole e nel flusso del film appunto sono comunque non così gravi e poi c'è la colonna sonora questa bellissima e delicata e vibrante colonna sonora di Marquiscia ma che davvero riesce a rendere struggente tutto questo racconto e poi il finale appunto dove ognuno dei due personaggi va incontro al suo destino un finale elegiaco effettivamente dove appunto sarà quello l'unico possibile destino di Bodhi un personaggio che cerca sempre di alzare la posta appunto di arrivare dove forse non può nemmeno arrivare e poi appunto la riflessione da parte di Utah e il lancio del distintivo appunto sull'acqua come forse può ricordare il lancio del distintivo da parte dell'ispettore Callaghan effettivamente a me ricorda sempre quello allora per Point Break punto di rottura il mio voto è 8 avete già visto questo film? beh spero vivamente di sì se non l'avete fatto è arrivato il momento di vederlo anche per festeggiare appunto Catherine Bigelow e i suoi 70 anni se volete appunto iscrivetevi a questo canale se volete seguitemi su Facebook e su Instagram per avere ulteriori aggiornamenti sulle prossime video recensioni e anche per leggere delle mini recensioni scritte in abbinamento a quelle orali di questo canale di YouTube e anche per giocare con dei quiz dei sondaggi che ho visto che vi piacciono molto e sono molto contento di questo sempre appunto nelle storie di Instagram e di Facebook e allora buona visione di Point Break bazzinatemi e date il cinema buon cinema a tutti e ancora auguri di cuore a Catherine Bigelow e quindi Grazie a tutti